Romina Power pare che nei giorni scorsi abbia preso la decisione di voler lasciare Albano e tornare a vivere in California. I fan si sono tanto preoccupati per questa improvvisa decisione della cantante italo-americana. E si chiedono se questa sia una decisione definitiva o soltanto un viaggio di qualche giorno. Dopo la conclusione delle feste natalizie e dopo aver trascorso il Natale insieme ai figli ed il Capodanno insieme ad Albano, Romina Power ha deciso di volare in California, dicendo così addio al suo ex marito Albano. La famiglia Carrisi attraverso i profili social ha raccontato un po' di questo periodo di vacanze che hanno trascorso divisi tra l'Italia e la Croazia. Sappiamo tutti che Cristel, ovvero la figlia di Albano e Romino si è sposata con Davor Luzic. È vivo in Croazia anche se molto spesso si trova in Italia. Romina Power lascia l'Italia e vola in California. Per queste festività natalizie Cristel è stata raggiunta presso la sua abitazione dalla mamma Romina. E dalla sorella Romina Junior e pare che le due si siano tanto divertite a fare la nonna e la zia. Visto che entrambe sono molto innamorate dei loro nipotini, l'ultima è arrivata soltanto alcuni mesi fa. Non si sa se ai festeggiamenti in Croazia fosse presente anche papà Albano, il quale dopo aver perso la mamma pochi giorni dalle festività natalizie aveva dichiarato di voler trascorrere gli ultimi giorni nell'anno in modo più riservato e potrebbe non essersi spostato dalla sua tenuta a Cellino San Marco. In realtà non ci sono conferme sul fatto che Albano non sia volato in Croazia ma potrebbe anche essere che ha semplicemente voluto tenersi lontano dalle telecamere e dai riflettori. Ad ogni modo concluse queste vacanze natalizie Romina Power ha deciso di volare in California. E da quanto pare sarebbe già partita qualche giorno fa. I fan sostengono che Romina abbia preso questa decisione perché si sente un po' un terzo incomodo nella vita dell'ex marito. Ma di questo non si ha alcuna certezza. Romina Power dopo aver partecipato all'evento di benvenuto al 2020 che si è tenuto in Basilicata ha deciso di lasciare l'Italia o almeno questo è quello che si apprende dalle ultime indiscrezioni che sono emerse in rete. Sul suo profilo Instagram, Romina ha pubblicato uno scatto che la stessa ha voluto realizzare mentre era a bordo dell'aereo con destinazione proprio la California, dove vive da quando si è separata dal cantante di Cellino San Marco. 2. Loredana Lecciso il nuovo compagno, La Confessione. Siamo in simbiosi. Loredana Lecciso torna a essere protagonista del mondo del gossip. L'ex compagna di Albano Carrisi ha dimenticato il cantante di Cellino trovano un nuovo amore. La donna pugliese torna nel mirino della cronaca rosa mentre i fan si chiedono, come mai Loredana Lecciso. Non ha ancora mostrato il nuovo presunto compagno? Loredana Lecciso e Romina Power dopo Albano Carrisi. Una cosa che hanno notato i fan di Romina Power e Loredana Lecciso riguarda l'assenza di un nuovo amore nella loro vita dopo la storia con Albano Carrisi. L'amore vissuto con il cantante di Cellino San Marco è stato così intenso che lei due donne non hanno mai trovato un compagno degno di attenzioni con il quale iniziale una nuova relazione. In questi anni il mondo del gossip si è sempre chiesto se Albano abbia mai scelto tra Romina e Loredana Lecciso, preferendo tenere per sé tale decisione e proteggere il loro rapporto se, magari come ha fatto Pupo. Le ha scelte entrambe. L'idea sembra essere comunque assurda, dato che Albano Carrisi ha sempre manifestato un profondo rispetto per le due donne che, ad oggi, si professano single ma nel caso della Lecciso single ma non troppo. Loredana Lecciso e il nuovo compagno. Dunque, mentre i fan si chiedono come mai sia Loredana Lecciso che Romina Power non abbiano parlato di un nuovo compagno. Ecco che arriva un nuovo scacco matto. A Quanto pare proprio l'Alecciso potrebbe avere un amore nuovo di zecca nella sua vita, anche se forse non è come immaginiamo. L'ex compagna di Albano Carrisi sempre più frequentemente si mostra insieme al cagnolino della figlia Jasmine. Chicco, non nascondendo tutto l'affetto che prova per questo, quasi fosse un nipotino che ha arricchito la quotidianità. Dunque, nessun nuovo amore e quindi compagno per la pugliese. Che sia tornata tra le braccia di Albano? La Burchieli a quel punto su invito di Maria De Filippi è salita sul trono del dating show? Ma poco dopo ha abbandonato il suo ruolo perché è ancora coinvolta sentimentalmente da Alessandro. Da quando i due si sono scelti per la seconda volta, sono diventati inseparabili. La coppia ha passato alcune delle festività natalizie insieme e a distanza di qualche mese dall'uscita di uomini e donne? Sembrano avere tantissimi progetti per il futuro. Veronica nuova dedica ad Alessandro Qualche giorno fa Veronica Burchieli è tornata a parlare sui social del rapporto instaurato con Alessandro Zarino. La ragazza ha sottolineato che il suo fidanzato fa di tutto per farla stare bene. Secondo Veronica, il rapporto con Zarino non sarebbe caratterizzato di una gelosia possessiva. In particolare le parole della Burchieli arrivano dopo un servizio fotografico in intimo svolto dalla Ligure. Tra uno scatto e l'altro c'eravamo io, lui e il nostro prenderci in giro. La giovane ha confessato che Alessandro ha sempre cercato di metterla a suo agio, anche quando si trattava di scegliere l'outfit giusto. Attraverso uno scatto pubblicato su Instagram, Veronica Burchieli ha parlato dell'importanza di aver accanto un ragazzo che la sproni sempre. Avere al fianco un partner che crede in te, che ti sprono senza superficiali gelosie è una fortuna, ed io sono fortunata. La Burchieli che reduce di una storia d'amore molto travagliata, non poteva fare complimento migliore al suo attuale compagno. Alessandro Pazzo di Veronica La coppia non smette di mostrare la propria affinità sui social. Poco prima delle parole al miele da parte della Burchieli, Alessandro ha postato su Instagram una dedica indirizzata alla Ligure. Il giovane Campano ha pubblicato una foto in cui lui e Veronica si trovano sulle montagne svizzere. Sotto lo scatto dei due che si abbracciano, Zarino ha scritto Per tenere ad una persona? Devi averne cura. Per averne cura devi capire di che tipo di cura ha bisogno. Parole che hanno conquistato il popolo del web, tanto che la foto ha ottenuto oltre 40.000 like e tanti commenti positivi. Fin da subito Alessandro Zarino aveva capito che Veronica Burchieli era la donna della sua vita, ed il tempo gli sta dando ragione. Cristian De Sica ospite al Festival di Sanremo 2020, non sarà solo Cristian De Sica ospite al Festival di Sanremo 2020, chi porterà con lui? Si aggiunge un ospite alla finale del Festival di Sanremo 2020? In programma il prossimo 8 febbraio. In collegamento su Viva Sanremo su Radio 2? Cristian De Sica annuncia la sua presenza, con il cast al gran completo del nuovo film tergato Fausto Brizzi? La mia banda suona il pop, previsto nelle sale italiane il 20 febbraio. Quello che il pubblico vedrà non sarà però una semplice marchettata pubblicitaria, ma verrà impreziosita da una performance musicale. Cristian De Sica illustra per filo e per segno i termini dell'accordo raggiunto. Sabato 8, durante la serata evento della popolare Kermesca Nora, calcherà il Teatro Ariston? Insieme agli altri protagonisti della fatica cinematografica. Nomi di assoluto rispetto. Massimo Ghini, Diego Abbatantuono, Paolo Rossi e Donatella Finocchiaro. Loro 5 canteranno un pezzo inciso appositamente per la pellicola di Fausto Brizzi? La mia banda suona il pop, dunque parteciperà come cantante, scherza all'attore romano. Saprà non sfigurare? La tentazione di condurre. Già in passato il festival della canzone italiana approcciò Cristian De Sica, il quale? Oltre ad essere uno dei volti più amati e apprezzati del grande schermo, è pure un appassionato di musica. Complessivamente ha pubblicato nel corso degli anni va in quattro album, il più recente uscito nel 2017, il natalizio Merry Christian, e una raccolta, Swing. In diverse occasioni andò vicino a salire sul palco, tuttavia non nelle vesti di cantante bensì di presentatore. Lo rivela lui stesso nel programma radiofonico. I dirigenti di Viale Mazzini gli proposero di presentare lo show? Ma prima era impegnato con le riprese del film Natale sul Nilo. Dopodiché, si rifecero vivere spose ancora picche, se una proposta gliela avanzassero oggi salirebbe a bordo. Cristian De Sica e gli altri ospiti confermati. San Remo 2020 inizia così a delinearsi. Decretati i partecipanti della categoria Nuove proposte e annunciati i 24 big in gara. Il ruolo di Covaletta permangono poche certezze. Le uniche co-conduttrici confermate sarebbero Diletta Leotta, Antonella Clerici e Rula Iebreal. Tenendo conto che ben dieci donne affiancheranno il direttore artistico sul palcoscenico, siamo ancora piuttosto indietro. Altri ospiti sicuri sono invece Fiorello, Roberto Benigni, Luis Capaldi e Albano Carrisi. Per tutte e cinque le serate sarà poi presente Tiziano Ferro, il cui ruolo resta da definire.